Siamo in piena stagione estiva, numeri importanti per il Capologo Adriatico, ci sono tantissimi turisti, soprattutto arrivati da fuori regione e anche dall'estero. Sì, questo è motivo di grande soddisfazione per noi perché la città è stracolma di gente, non c'è un posto letto disponibile nell'arco di diversi chilometri, non c'è una palma o un ombrellone da affittare perché tutti gli stabilimenti sono pieni, i locali sono pienissimi, è un momento positivo per la nostra città, mi auguro che possa durare ancora molto, il fatto che molti italiani non facciano le vacanze all'estero ha permesso di riempire molte località italiane che in passato non avevano presenze così numerose come quelle che oggi noi registriamo. Anche per la seconda parte di agosto, Sindaco, avete messo in campo diverse iniziative, diversi spettacoli, diversi eventi in città? Sì, noi abbiamo tre punti focali che sono lo Stadio del Mare, l'Aurum e il Teatro d'Annunzio, dove ogni sera ci sono manifestazioni di livello nazionale, internazionale e anche con artisti locali perché abbiamo voluto dare spazio anche ad artisti locali come abbiamo fatto l'anno scorso. Queste iniziative sono sempre molto apprezzate dalla cittadinanza e dai turisti, tant'è che ogni iniziativa ha sempre il sold out, dal festival jazz a funambolica ai concerti con cantanti importanti, alle tante iniziative che organizziamo. Poi ci sono i locali che sono il traino della nostra città perché Pescara è una città che ha grande capacità di attrazione con i tantissimi locali che permettono a Pescara di essere una città sempre molto viva. Poi quest'anno abbiamo anche la bandiera blu e questo ha contribuito molto a far venire i turisti nella nostra città perché è un bollino di qualità internazionale che Pescara si è guadagnata e che oggi porta vantaggi economici incredibili. Come avevamo detto nei mesi scorsi.